Dalla fantasia di Walt Disney Nacque l'innocenza Si strinsero amicizie E fu creata una tradizione Ora da Adi della DreamWorks Animation il suo ultimo film Dai produttori di Shrek e Madagascar Senza la grida della sua mamma Bambi per conquistare la fiducia del padre Con l'aiuto dei suoi nuovi amici E coraggio di un figlio Riliverà l'amore di un padre Bambi 2 Bambi 2 E il grande principe della foresta Solo in Disney DVD e videocassetta Primavera 2006